Ciao, buongiorno a tutti, siamo qui nella mia cucina e oggi vediamo insieme come preparare delle candele fatte in casa con delle cere naturali. È una cosa molto semplice da fare che richiede anche poco tempo e lo facciamo soprattutto per godere dell'atmosfera che le candele creano senza diffondere in casa delle cose tossiche che possono essere spesso gli ingredienti delle candele che sono la paraffina, quindi petrolio e anche degli aromi sintetici che ovviamente non ci fanno bene, anzi possono anche essere molto molto nocivi. Ci sono diversi modi per fare le candele, oggi vedremo quello più semplice che si può fare anche da soli, però vi faccio, vi parlo anche degli altri. Uno è questo, vedete qui sono due candele insieme, in questo caso si fa sciogliere la cera e si immerge lo stoppino, è uno stoppino di cotone dentro il contenitore proprio molto molto velocemente, è una cosa che si fa con un gruppo di persone perché si immerge lo stoppino, poi si gira intorno e ognuno a turno immerge lo stoppino fino a raggiungere la dimensione e la lunghezza desiderata della candela. Queste sono fatte entrambe con cera d'api, questa è un pochettino più gialla, questa probabilmente era miscelata con un altro tipo di cera, le ho fatte l'anno scorso a scuola, non ricordo esattamente, comunque sempre cere naturali fatte con lo stesso sistema. Un'altra possibilità sono questi foli, questa è fatta con un foglio di cera d'api, vedete, che è stato semplicemente arrotolato, quindi questo non richiede calore, non richiede di sciogliere la cera, se non magari di scaldarlo un pochino con le mani o eventualmente con un phon ad esempio, ed è una cosa che si può fare anche appunto perché è così semplice e sicura anche con i bambini più piccoli. In questo caso vi servono dei fogli di cera d'api, questo è colore giallo naturale però si trovano anche bianchi o con colori pastelli, rossi, colori che preferite e semplicemente si arrotto e poi si utilizza come una candela normale. L'altra possibilità ancora invece è di utilizzare lo stoppino e uno stampo, è quello che faremo oggi. Allora voi potete utilizzare un barattolino di vetro, questo è riciclato da altre candele ma anche delle tazzine antiche, dei contenitori che trovate anche nei mercatini, piccoli vasetti, qualunque cosa che sia ovviamente resistente al colore per cui va benissimo il vetro, va benissimo anche il metallo. Quindi anche barattoli di alluminio riciclati da qualche cosa va bene e possiamo utilizzare, questa per esempio è una, anche poi delle decorazioni. Rispetto agli stoppini possiamo utilizzare o il classico stoppino, questo è in cotone, cotone cerato, questo è già cerato ma se non lo troviamo possiamo prendere lo stoppino e immergerlo nella cera, aiuta un po' a tenerlo in equilibrio e sul fondo vedete questo questa base di metallo che l'aiuta a tenersi in piedi. O ancora possiamo utilizzare uno stoppino di legno, questo è, non so esattamente che legno sia ma vedete è una lamella sottilissima, che ha anche questa la sua base di metallo, quindi non si fa altro che inserire il legno nella base e questo è davvero molto molto semplice perché sta in piedi tranquillamente da solo in qualunque vasetto noi lo mettiamo e poi si taglierà della dimensione che ci serve. In questo caso vi farò vedere due possibilità, una in cui la candela rimane dentro il vasetto come appunto qui e quindi poi la accendiamo e lei va avanti per il tempo in cui la vogliamo tenere accesa oppure se vogliamo possiamo usare degli stampini, questo anche questo è stato trovato a mercatino, è ovviamente uno stampino di silicone che serviva probabilmente per dei dolci eccetera. Se va bene per i dolci quindi se va bene da mettere in forno va bene anche per il calore della candela. Rispetto alle cere invece quelle che si usano di più sono la cera d'appi e questa è cera di soia, la cera d'appi è gialla al naturale, si trova anche bianca se preferite magari un colore più neutro, magari il giallo non è un colore natalizio, non so quello che avete bisogno voi, ovviamente è un pochettino più raffinata, la cera di soia è invece completamente vegetale se preferite questa possibilità. Le cere si possono eventualmente anche miscelare, esistono cere vegetali di tanti tipi però per le candele magari visto che la quantità è notevole di cera che viene utilizzata scegliamo quelle che sono un pochettino più economiche. Mettiamo la cera in questo caso di soia con più o meno dieci cucchiai viene una candelina di queste dimensioni. Mettiamo adesso la cera a sciogliere a bagnomaria e fate attenzione ad usare un contenitore che sia alto e che non ci sia il rischio che l'acqua vada dentro al contenitore perché rovinerebbe la cera. Questo vale in realtà un po' per tutte le autoproduzioni. Dopo che la cera si scioglie prepariamo tutti gli stupini, i contenitori adesso appunto io li ho già scelti per cui mettiamo, di solito io metto lo stupino di cotone cerato in queste qui e poi ci servirà per tenerlo fermo una molletta che tiene dritto lo stupino, poi lo sistemiamo un pochino mentre versiamo la cera però lo aiuta a stare a stare dritto. Invece in questi qui di solito metto lo stupino di legno che poi naturalmente taglio a seconda di quello che mi serve. Vi volevo far vedere che quando escono sono così, vengono fuori molto facilmente ovviamente dallo stampino di silicone, volendo possiamo decorarle con della cera in fogli e con le formine che ci piacciono di più. Queste le avevo fatte penso a febbraio quindi ci ho messo dei cuoricini. Ci sono appunto dei fogli di cera sottilissimi, vedete che si tagliano tranquillamente con le forbici e scaldandoli un pochettino aderiscono, le mani semplicemente aderiscono alla superficie della candela. C'è il rumore della cera che si scioglie. La nostra stellina, pensavo di averlo già filmato, invece lo devo rifare e l'ho già attaccata ma semplicemente spingendola con il calore delle nostre mani, è cera, è sottile e aderisce alla cera della candela e poi si scioglierà mani in mano che la candela arriva a questo punto. La cera è pronta, completamente sciolta e adesso la versiamo negli stampini. Ok, iniziamo da quello più difficile che è questo stoppino qui perché un pochettino si muoverà però alla fine andrà tutto bene. Questa è una cera di soia che non ha bisogno di essere diluita. In alcuni casi potrebbe aiutare aggiungere un po' di olio di cocco soprattutto per quando la cera brucia in modo da non creare questo cratere in mezzo. Mani in mano che si asciuga un pochino la sistemiamo. Questo qui invece sarà molto molto semplice basta semplicemente riempire e ovviamente il legno sta su da solo. Ecco, l'altra cosa che volevo dirvi intanto che finiamo di sistemare la cera è che se vi rimane della cera in delle candele che avete preparato dove l'ho messa? Eccola qua. Vedete questa è praticamente finita è rimasto poco stoppino. Lo stoppino in legno brucia un pochino diversamente però potete sicuramente utilizzare visto che sto parlando vi guardo potete utilizzare questa cera farla sciogliere di nuovo e usarla come quella nuova potete tranquillamente potete riciclarla e potete riciclare anche lo stoppino ovviamente è consumato ma la base dello stoppino quella si può riutilizzare quindi è davvero anche molto così aiuta a risparmiare anche da questo punto di vista nei contenitori, nei rifiuti in tutto quello che stiamo utilizzando perché appunto i vazzetti di vetro sapete che si possono usare all'infinito la cera è ancora troppo liquida e troppo calda per farlo però mano a mano che si solidifica la vedete che inizia anche un po' a cambiare colore ma è ancora insomma morbida potete metterci sopra in questo caso appunto come vi dicevo prima ho messo dei fiori che avevo fatto essiccare quest'estate un po' di lavanda andando verso natale possiamo decorarla anche con dei bastoncini di cannella di anice stellato qualcuno ci mette dei chicchi di caffè anche secondo un po' così della dello stile che vogliamo dare anche della profumazione possiamo mettere gli oli essenziali nelle candele però ricordiamo che verranno riscaldati quindi sentiremo un po' loro aroma ma non non avremo gli stessi effetti benefici che abbiamo mettendo gli oli nel diffusore e ricordiamo anche che ce ne vogliono tanti perché un po' appunto stando aperto un po' col calore l'aroma si disperde quindi abbiamo bisogno di molte molte gocce di oli essenziali per cui può diventare un pochettino costoso per cui ripeto per avere l'aroma in casa è molto più efficace utilizzare il diffusore usiamo le candele per l'atmosfera che creano avete letto sicuramente quello che ho scritto anche qualche giorno fa o anche per chi sta facendo il mio corso che in scandinavia soprattutto le candele si utilizzano per creare un'atmosfera per dare inizio a una serata insieme a una cosa che si sta condividendo anche una riunione in cui vengono decise delle cose semplicemente quando si hanno ospiti in casa si accendono le candele si mette la candela sulla finestra la candela fuori della porta quindi è un modo proprio per così per godere di questa che viene chiamata qui la luce vivente quindi qualche cosa di vivo qualche cosa di vivo che crea anche nel rapporto con le persone a cui in quel momento scegliamo di dedicarci a cui in quel momento scegliamo di dedicarci